Mi presento, sono Andrea, mi conosci Manuel adesso da un paio di sere, vivo qui in Piemonte, in provincia di Cuneo, a Roccabrona, niente, vorrò fare questo video per presentarmi, video di presentazione, ho 34 anni, sono andato il 31 ottobre 89, e niente, nulla, semplicemente mi piace andare in bici, anche se è da un po' che non vado più, adesso puoi cominciare di non andare, il prossimo mese almeno, finché aspetterà di piovere, perché ultimamente piove molto, anzi, ho intenzione di comprare una nuova bici, fa poco, che è abbastanza costosa, però è un po' più leggera, forse, in carbonio, lega di carbonio, anche perché l'anno scorso, con quella che ho attualmente, ho quasi fatto 5.000 km, in 5 mesi, da giugno a ottobre, perché ho fatto l'ultimo viaggio il 27 ottobre, quindi quasi 5.000 km, perché io, da dove abito io, in Francia, ci sono 50 km, più o meno, anche se comunque sono 72 fino al confine, perché la mia valle, abito in una valle, non c'è una strada asfaltata, non c'è stata asfaltata che porta fino al confine, per arrivare al confine bisogna praticamente fare una strada che porta nella valle vicina, sono due valli, o una o l'altra, e si può arrivare fino al confine e poi scendere in Francia, io ho fatto due colli l'anno scorso, il colle dell'Agnello e il colle della Lombarda, il colle della Lombarda è più basso, 2800 metri, poi sono sceso sotto in Francia, al primo paesino, Isola 2000, che gli stava 3 km, mentre invece il colle dell'Agnello, quello è alto, molto più alto, 2744 metri, per la precisione, molto alto, e poi ho ancora fatto 11 km in Francia, ho fatto 84 km in poche parole, più o meno, all'incirca, volevo anche quest'anno di noi tornarci sul colle dell'Agnello, però ho fatto molto allenamento prima, solo che l'anno scorso ho preso un caduto, perché anche la mountain bike sono caduto, mi sono fatto male qui, 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 mi sono aperto qua, qua e qua, e poi mi sono accorto un dente, adesso me l'hanno ricostruito, infatti ho tutto ferito qua, qui, 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 qui sulla spalla, perché sono caduto, sono caduto sull'asfalto, ma perché ho avuto paura, perché praticamente sono partito il primo manigio, sono arrivato su un colle, si chiama Colle di San Peire, e poi sono stata sterrata, bruttissima, anche se avevo la mountain bike potevo farla, ma era troppo veruto, ma è sterrata, tutta ghiaiosa, pietra, ghiaia, pericolosa, e già lì sono caduto una prima volta, praticamente, e poi, anche perché la strada lì è da lunga 40 km, troppi km da fare sullo sterrato in un pomeriggio, anzi, ero a metà pomeriggio, erano già le 4 e mezza, quando sono andato sul colle, e ho iniziato la strada, e troppi km, troppi km, infatti poi mi sono andato a fermare, fermare, ho fatto alcuni pezzi a piedi, perché è andato un po' pericoloso, ma ci sono andato una volta, mi sono fatto male al ginocchio, e sanguinava un po', non tanto, poi sono arrivato poi, ad un altro colle più in basso, e poi sono andato giù, al primo villaggio che c'era, praticamente, più in basso, che poi c'era stata asfaltata, però io talmente ero spaventato, avevo paura di non poter tornare a casa, che, lì, praticamente, ho avuto un capogiro, mi girava la testa, mi ha girato la testa a un momento, e lì sono caduto con la bici, un po' sull'asfalto, ma, neanche, ho detto subito, mi sono detto, come ho fatto a cadere, è perché mi girava la testa, infatti poi mi sono rialzato, ed ero, mi girava ancora la testa, poi sanguinavo dappertutto, e poi la gente si è fermata, ma poi ho chiamato l'ambulanza, e mi ha votato all'ospedale, sono terribile, infatti per una settimana, anzi per dieci giorni, non sono andato in bici, anche se mi è dispiaciuto, perché era fine luglio, agosto, e poi, subito dopo, ho fatto un viaggio di cento chilometri ad andare, e cento chilometri a tornare, avevo cento chilometri in un giorno, da casa mia ad Asti, che sono cento chilometri, perché poi andavo anche a Torino, a Torino l'ho già andato, e sono 83 chilometri ad arrivare quasi in centro, siamo fino alla stazione di Torino Porta Nuova, che è la stazione praticamente centrale di Torino, però nel centro ci sono ancora due chilometri e mezzo in più, però, è comunque lontano, io a Torino sono andato otto oltre l'anno scorso, ho girato mezzo a Torino, poi sono andato a settimo, sono andato a Venaria Reale, che è sopra Torino, sono sopra Torino, a Rivoli, che lì ho quasi fatto, 96 chilometri, ho quasi fatto in tutto, cioè, solo da andare, però, e poi ancora sono andato a Superga, che è praticamente la basilica che c'è lì a Torino, che è in collina, che è anche duro, perché sono 4 chilometri di salita ripida, e così via, però a me piace molto, e quindi vado volentieri in bici, l'estate, perché a me l'inverno non piace, anche perché fa freddo, perché sono corte, e non è molto comodo, c'è l'estate diverso, fa caldo, infatti, sì, tipo pomeriggio, perché di solito vado due settimane, il giovedì e la domenica, la domenica pomeriggio, che io vado pomeriggio, infatti tante volte che fa caldo, metto solo i pantaloncini, metto la maglietta, perché fa troppo caldo, troppo caldo, specialmente andando verso la pianura piemontese, che non è proprio pianura, perché abbiamo le montagne da una parte, e le langhe dall'altra, che sono colline, e anche lì è abbastanza dura andare in bici, perché sale e scende la strada, però a Fossano, Savigliano, lì è un pochettino più an'ora, e lì fa caldissimo, arriva anche a 40 gradi, in certi giorni, in certi pomeriggi, se qui l'obbitoio ci sono magari già 30 gradi, o 32, che è già caldo, insieme sono 40, anche di più, come anche a Torino, ma a Torino fa caldissimo, Torino, Torino, Pinerolo, anche in Val Chisone sono andato in Val Pellice, Torre Pellice, Chieri, sono andato in provincia di Asti anche a Villanova d'Asti, che è di qua abbastanza distante, provincia di Asti, tipo d'Asti distante, però... la mattina sono partito, sono andato ad Asti, passano da Alba, che Alba è dove c'è la Ferrero, che produce la Nutella, la Ferrero è da Ferrero, praticamente la sede è lì ad Alba, infatti sottovederla, Ferrero è grande, enorme la Ferrero, e poi da lì, ad Asti, sono 30 km, infatti seguo un, seguo un, seguo un, seguo un, uno YouTuber, che questo qua fa video, è praticamente in, in Africa adesso, lui è praticamente era, era in Francia, lui abitava, praticamente abitava in Francia, o meglio, abitava in Francia, però, è partito con la bici, con un triciclo, a tre ruote, dell'Asob, che è una marca cieca, della Repubblica cieca, è partito da la Francia, da Suasson, che è a nord, è a nord estale di Parigi, per fare, eh, Svizzera, Italia, è passato dalla Lombardia, poi ha fatto Veneto, Friuli, per andare poi, ehm, per fare i Balcani, Bulgaria, finì in Bulgaria, sicuramente è passato da Croazia, Jugoslavia, Serbia, Jugoslavia, Serbia, poi ha fatto, mi sembra, Bulgaria, e poi ha fatto Turchia, mi sembra, Libano, Siria, Iraq, ha fatto un pezzo di Iraq, poi ha fatto, tornando, è arrivato poi, eh, forse ha fatto, mi sembra, Libano, non so se ha fatto, forse Iraq, Siria, prima, ma Iraq, e Siria, poi ha fatto Libano, mi sembra, ha fatto, ha fatto Israele, Palestina, cioè Israele, Palestina, le due, poi è stato in Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, anche se era tre mesi fa, mette i video ogni sabato, domani mette un altro video, e praticamente fa, fa, domani, domani mette un altro video, perché ne mette una settimana, uno il sabato, e praticamente questo video qua, penso che sia, praticamente, al riassunto, non so se lo fa, in un giorno, non so neanche se sta, magari una settimana lì, dove va, non so, come si svolge la cosa, però praticamente fa, 80 chilometri al giorno, 100 alle volte, adesso doveva entrare in Tanzania, perché, il Burundi è ai confini chiusi, c'è Rwanda a Burundi, però lui, praticamente passava dalla Tanzania, che le sue, le sue intenzioni, l'intenzione è di andare in Sudafrica, a Cape Town, Kapstadt, città del Capo, c'è ancora Zambia, che sicuramente fa la Zambia, non penso che farà Malawi, Zambia, poi c'è Zimbabwe, poi c'è, o passa direttamente in Sudafrica, oppure potrà sì che fa anche un pezzo di Botswana, passare anche dal Botswana, altrimenti si può passare direttamente in Sudafrica, senza passare dal Botswana, per quello che io, infatti Esfo non conosce Kino Yves, si chiama Kino Yves, se vuoi iscriverti al suo canale, Kino Yves, con la K, Kino, con la K, Yves, con la Y, Y, Yves, è francese, parla inglese però, perché infatti, lui fa i contenuti, sono tutti in inglese, parla inglese benissimo, perché, parla inglese e francese, perché è francese, infatti, sul suo cammino ha incontrato i francesi anche, tipo lì, non so se, non so se era già in, forse era ancora in Uganda, neanche in Rwanda, quando aveva incontrato dei francesi, in Uganda ancora, però paesi, lui praticamente va a tutti i paesi inglesi, il Rwanda era francese, poi c'è stato il genocidio, fra Uttu e Tutsi, però poi, sono passati praticamente alla lingua inglese, a parte il Buruni, dove si parla francese, ma da quella parte lì, la parte est dell'Africa, la parte orientale, si parla solo inglese, tranne in Mozambico, che si parla portoghese, e, vabbè, Madagascar che si parla francese, ma il Madagascar è un'isola, poi c'è l'Etiopia, che si parla inglese, e Amarico, Eritrea, Tigrino è inglese, arabo, si parla anche arabo, un po', questi musulmani, come anche in Etiopia, un po', però sono anche ortodossi, e in Somaia che si parla, invece c'è il Somalo, l'arabo, e l'inglese anche, e poco poco l'italiano, perché la Somaia era una cosa italiana, specialmente dalla parte sud, e questo è, questo è tutto, poi seguo anche gli Steps Over, che lo sono, anche altri due italiani, che hanno un camper, che lo chiamano Valentino, e che adesso sono in Africa anche loro, però hanno girato praticamente tutta l'America, sono partiti dall'Italia per andare in Senegal, tutto il camper, poi si sono imbarcati con la Grimaldi Line, praticamente fino a Montevideo in Uruguay, e poi hanno incominciato a viaggiare in Sud America, hanno fatto una parte di Brasile, poi hanno fatto Argentina, Cile, Bolivia, Perù, hanno fatto Colombia, e poi sono arrivati fino in Messico, facendo il Centro America, e poi hanno girato due volte gli Stati Uniti, lo Stato Uniti due volte, per arrivare poi in Canada, poi hanno fatto parte di Canada, fino in Alaska, e poi scendere di nuovo giù negli Stati Uniti dal Canada, finché poi si sono imbarcati ad Halifax, nella Nuova Scozia, che è in Canada, per tornare poi di nuovo in Europa, hanno imbarcato al mezzo, adesso si sono imbarcati invece, con l'aereo, hanno fatto l'aereo, per tornare a Milano, a Milano di Nate, e il mezzo invece l'hanno imbarcato, perché arrivasse da Anversa in Belgio, poi sono andato a prenderlo in aereo in Belgio, sono andato in aereo in Belgio, per prendere il mezzo, e poi tornare in Italia con, tornare in Italia con, con il camper, passando per la Germania, e la Svizzera, perché dovevano risistemarlo, revisionarlo, prepararlo per il viaggio in Africa, adesso sono in Africa, da fine dell'anno scorso, mi sembra, però loro si sono imbarcati con la nave, fino in Marocco, poi hanno incontrato al Marocco, praticamente, hanno fatto Marocco, hanno fatto, Mauritania, hanno fatto Senegal, io li seguo da quando sono in Mauritania, praticamente, Senegal, perché è da lì che li seguo, Senegal, poi hanno fatto, Guinea Conakri, poi hanno fatto, Costa d'Avorio, Cote d'Ivoire, poi hanno fatto, Ghana, Togo, Benen, Nigeria, adesso sono in Cameroon, lo mettono tre vite a settimana, hanno due, hanno un sito internet, poi hanno pubblicato un libro, forse, 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 magari un paio, non so, e poi hanno anche, due canali YouTube, Stepsover, e Stepsover Extra, che mettono contenuti, però, poi fanno anche live ogni tanto, però, diciamo che sul canale principale, mettono, i contenuti del loro viaggio, che sono molto belli da vedere, e poi, sul canale Extra, mettono i contenuti, per quanto riguarda, la manutenzione del camper, perché, il camper, l'hanno praticamente, costruito loro, esiste un camper come loro, proprio, da acquistare, che costa 500 mila euro, che, è molto più bello dell'oro, però, quello che sono fatti loro, praticamente, l'hanno preso un vecchio furgoncino, e la man, hanno comunque speso 30 mila euro, per sistemarlo, per adattarlo come camper, e praticamente, hanno tutto, hanno cucina, hanno bagno, hanno, hanno, praticamente, camera da letto, dove dormono, hanno la lavatrice, hanno il forno, hanno tutto, hanno la doccia, infatti, comunque, comunque sono, specialmente Simone, che, perché loro sono una coppia, marito e moglie, Simone e Ucia, lei fiorentina, lui di Milano, sono licenziati, lei lavorava in un, in un, in una multinazionale, di risorse umane, lui invece, faceva, mi sembra, un programmatore, informatico, una cosa così, a Milano, lui del 75, lei del 72, e praticamente, sono in viaggio, già dal 2017, è già, sette anni, che sono in viaggio, hanno fatto, una pausa, per l'Africa, prima di partire, per l'Africa, ma, di qualche mese, praticamente, fino all'anno scorso, fino a, a giugno dell'anno scorso, erano ancora, negli Stati Uniti, adesso poi, è da, un po' di mesi, che sono, in Africa, però, sono interessanti, i loro contenuti, e questo è tutto, questo è tutto, io, sto lavorando, in una casa di riposo, come adesso, e, poi, praticamente, faccio, faccio animazione, con gli anziani, perché facciamo attività, perché loro, comunque, sono, sono, tanti sono soli, hanno problemi, comunque, sono, 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 sono un po', un po', un po', tristi, alcuni sono, tristi, hanno bisogno, di, di sfogarsi, anche un po', di parlare con qualcuno, e, infatti, per queste estate, per queste estate, ci sono delle gite, che hanno, intenzione di fare, per portarli fuori, infatti, l'anno scorso, anche, andavamo, per andare, per esempio, un gelato, magari, al bar, o comunque, in gelateria, ne portamo alcuni, non tutti, perché, sono topi da portare, però, alcuni li portevamo, e loro erano contenti, per quanto riguarda, quei video lì, che ho caricato, sono, è un amico, che è, ho conosciuto su Facebook, lui è congolese, però non l'ho più visto, invece, un altro, che è anche in questo, il frontoffio qua, lui è ruandese, di origine, però lui, praticamente, è fin da piccolo, che, in questo, in questo, orfanotrofio qua, in questa pediatria, lui è orfano, si chiama anche Andrea, oltretutto, un po' particolare, perché, gli africani, di solito, non è che non ci sono, africani che hanno, i nostri nomi, però, è un po', è un po' difficile, io, si riconoscevo, un africano, conivoriano, che adesso è, in Scozia, oltretutto, neanche più in Italia, questo qua, anche si chiama Andrea, Amoa, è andato qui, però, perché il padre, comunque, gli ha dato, gli ha dato questo nome, poi, il padre è morto anche lui, perché, non so, non so che cosa l'aveva preso, ma, non, non stava bene, l'aveva passato al lavoro, poi la moglie l'aveva lasciato, e, insomma, ho avuto, ho avuto, ho avuto un sacco, un sacco di problemi, infatti, eh, e poi, i figli, uno era da una parte, l'altro era dall'altra, uno era in Olanda, però, questo qua, non si sapeva neanche che cosa faceva, due erano in Italia, e uno era in Scozia, che poi, il più giovane, Andrea, la madre se l'aveva preso, l'ha portato in Scozia, ed è ancora lì, che poi, questo qua, non ha conosciuto un altro, è proprio una brutta situazione, purtroppo. Comunque, mi è fatto piacere di avverti conosciuto, carico questo video, così che, tu, almeno possa un po', di più conoscermi, anche se, magari, insomma, non poterà pensare che, magari sono, uno squilibrato, non sono squilibrato, no, assolutamente, certo sono, potrei essere stato papà, per dire, perché, tu sei giovanissimo, io, tanti anni in più di te, anche se, non sono né fidanzato, non sono né sposato, né fidanzato, quindi, mia sorella è già sposata, ma da poco, da settembre dell'anno scorso, che ho sposato, infatti, sono andato a trovarla, proprio, proprio oggi, comunque, ti ringrazio di tutto, e, se vuoi vedere questo video, io lo caricherò, e, tu puoi, tu puoi vederlo, ciao, ciao Manuel,